Ragazzi, io sono praticamente distrutto, non ho più le forze fisiche per concludere la serata, quindi sarò breve. È stata una vittoria, a dir poco, non sofferta di più, anche perché comunque abbiamo affrontato il primo tempo statici, non abbiamo concluso mai verso la porta, tranne un tiro di Milik che è finito tra le braccia di Montipò. Loro invece si sono rese pericolosi in più di un'occasione, abbiamo lasciato gli spazi centrali, la lasagna in più di un'occasione si è reso pericoloso. Nel secondo tempo troviamo il gol con Ken, bravo, bravo Rabbione, il passaggio finale nell'assist, Ken secondo me non ha tirato neanche benissimo, ma quello che è contato è che la palla è entrata. Come valutare la prestazione della Juve questa sera? Abbiamo portato a casa la vittoria. Io salvo il risultato, salvo il risultato e stop. Vi va bene così? Ma io d'ora in poi, guardate, non metto più becco. Certo, nella mia idea di calcio c'è anche una cosa un pochino diversa. Ogni tanto proporre qualche triangolazione, fare qualche tiro in porta, ma giusto qualcuno, cioè non è che pretendo chissà che cosa, però l'abbiamo portata a casa e quindi me ne sto zitto. Me ne sto zitto, me ne sto zitto perché poi se io vado a commentare e faccio un'analisi su quello che ho visto in campo, boom, apriti cielo, apriti cielo. Ah, per dovere di cronaca, i rigori non ci sono, è inutile che incominciamo a scrivere sui post, su Facebook, sui social, rigore qui, rigore lì. Quindi, allora, il regolamento dice che Danilo prende il pallone col braccio, ma con il tiro di richiamo, di rimbalzo, quindi non sarà mai calcio di rigore. Il secondo intervento di Bonucci è invece sul pallone, anche se ha la gamba leggermente alzata. Quindi non iniziate con questo discorso perché ve lo stronco subito. Però, oh ragazzi, se dobbiamo vincere così tutte le partite, va bene, vinciamole così. Tutte così da qui fino alla fine però, eh. Da qui fino alla fine non tocchiamo mai il pallone, facciamo giocare all'avversario, un tiro in porta e gol. Non che io voglia criticare il mister a tutti i costi, perché non è un divertimento per quanto mi riguarda criticare il mister. Per me quello che è importante è vedere una Juve vincente sotto tutti i punti di vista. Io stasera di positivo ho trovato solo il gol. Voi mi dite, e fin quando va avanti prenditi quel buono che arriva. Va bene, va bene, sto zitto e vado avanti. Avete ragione voi. Perfetto così. Però voglio vedere questa situazione che si verifica in questo modo da qui fino alla fine del campionato. Cioè i risultati positivi devono arrivare sempre. E in Champions non è stata proprio così. Non dimentichiamolo questo. Detto ciò, vittoria, tre punti e a lei. Si va. Sempre più su in classifica.